Posso dire che il più brutto è quello che ho fatto a voi? Mi ha detto che prima che tu arrivassi torna di avere qualcosa a Franciapetti, quindi insomma è stato un gollo. Sì, diciamo che ho fatto tre a Parcola. Eh, esatto. Poi, vabbè, la tua presentazione è giudicato. L'altra attaccata non c'è bisogno. A te, rischio dopo. E dopo ve lo dire. Ci sarà successo, che spero. Aspetta la presenza. Grazie, no. Voi vediamo a questo cuore, appunto tu il cuore, sai da quanto, però sono troppo complici. Voi, domanda che ci avevi, fortunatamente da lui, un certo prestato, che poi ti ha superato in quell'anno, in quell'occasione. In questo momento, una coppia d'attacco, il carabinato lo castato. Secondo te, è una coppia d'attacco che in serio vuole fare la differenza? Io penso proprio di sì. Perché lui, Gigi, era un grandissimo attaccante, anche lui, come sono anche gli altri attaccanti che ha lino adesso, quindi penso che tutti gli attaccanti siano proprio all'attacco. E poi ci volevo chiedere, ma chi le vuole ci crede o no in te? Visto che comunque ogni anno ti manda a giocare a loro. Diciamo che penso che se le vuole rimanere in Serie B, non penso che mi lasciavano andare via, però comunque sì, queste sono cose loro, quindi io non posso commentare. Grazie. 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 Grazie.